Dentro, dove lavoravano i nero sette persone, si trovavano numerosi cavi elettrici scoperti che pendevano proprio sopra la postazione dei dipendenti sfruttati. In più, sia all'interno che all'esterno del capannone c'era circa mezza tonnellata di rifiuti speciali, scarti della lavorazione tessile, apparecchiature elettriche ed elettroniche stoccati ovunque. Il blitz della Guardia di Finanza di Castelfranco ha permesso di individuare dal Tivole l'ennesima azienda tessile irregolare gestita da cittadini cinesi. I sette operai nero sono cinque connazionali del titolare e due di origini pakistane e bengalesi. Tutto sotto sequestro, l'immobile, i rifiuti, i 49 macchinari industriali e annessi banchi di lavoro, capi semilavorati e materiali vari per la lavorazione tessile. L'imprenditore cinese è stato denunciato e segnalato alla Direzione Territoriale del Lavoro che ha sospeso temporaneamente l'attività.